Rieccoci qui al Salone del Risparmio 2019, ho il piacere di avere qui con me Elisa Ori di BNP Paribas Asset Management. Allora con lei occupandosi anche della parte istituzionale per BNP vorremmo approfondire il rapporto con l'ambito assicurativo che sicuramente la sta facendo sempre più da padrone anche nell'ambito del risparmio gestito. Che cosa ci puoi dire in merito? Sì, assolutamente le assicurazioni sono un importante segmento di clientela per noi, direi in termini di attivi il più importante in questo momento dove ci poniamo sia come gestori di parte delle gestioni separate che come gestori di fondi interni o unit, legati a unit. Sono sempre più importanti perché si trovano ad affrontare diverse sfide, una sicuramente è la sfida dei mercati, un trend secolare è finito, lo sappiamo benissimo e quindi di fatto negli ultimi anni hanno dovuto diversificare la loro asset allocation. L'altra sfida è quella normativa perché con Solvency e quindi con tutte le esigenze di capitalizzazione anche questo le ha indotte a fare dei movimenti di asset allocation che prima sappiamo era molto concentrata sulla parte obbligazionaria e in particolare i titoli di Stato italiani. Ecco voi proprio a tale riguardo avete deciso di promuovere una conferenza che si svolgerà proprio oggi che riguarda il mercato assicurativo. Assolutamente, la conferenza sarà oggi alle due e mezza in sala Iello 1 e parlerà appunto dell'evoluzione dell'asset allocation nelle imprese assicurative e avremo con noi a dibattere di questo tema e ringraziamo il direttore generale dell'ANIA, il dottor Focarelli che ci darà la visione dell'industria e poi avremo tre CIO, non anticipo troppo, comunque tre CIO di altrettante e importanti assicurazioni che parleranno come viene fatta l'asset allocation nelle loro società e come questa è cambiata negli anni appunto alla luce di quello che dicevamo prima. Assolutamente, le sfide comunque anche lato assicurativo con i DD per la parte anche di distribuzione sono notevoli, noi insomma con la doppia anima anche che seguiamo il risparmio gestito ma anche il mercato assicurativo seguiremo con maggiore interesse anche questo approfondimento. Io ringrazio nuovamente la dottoressa Eori per essere stata con noi, non mi resta che lasciare la linea allo studio.